Io ritengo, Presidente, che sia abbastanza svilente il fatto che ormai possiamo contare decine e decine di minuti investiti in quest'Aula a parlare esclusivamente di cavilli, articoli di regolamento e procedure e non invece del merito della questione. Oggi è chiarissimo che con questa maggioranza, Presidente, si potrà arrivare certamente all'approvazione di una misura che è largamente condivisa, ma nella forma della delega al governo, attraverso la quale sarà possibile realizzare ciò che evidentemente sta alla base di questa volontà, che è quella di riconoscere il diritto del voto fuori sede. Quindi, Presidente, io auspico che si possa procedere rapidamente nella discussione di merito, perché i nodi sono diversi, ci sono proposte emendative, vanno valutate, votate e questo provvedimento ha il diritto, Presidente, di arrivare alla sua naturale conclusione, nella forma in cui il Parlamento vorrà e non solamente una parte, peraltro minoritaria, del Parlamento. Grazie.